Oggi andiamo a vedere perché una madre narcisista potrebbe odiare le sue figlie. Allora, voglio premettere che questo video è la risposta di una domanda che mi è stata fatta nei commenti. Pertanto, iniziamo! Le considerazioni che spingono una madre narcisista a odiare le sue figlie possono essere tantissime. Però, parlo in base alla mia esperienza qua, eh. Quello che ho potuto vedere è che è un discorso di invidia. È un discorso di vedere le proprie figlie avere quelle che loro non hanno avuto nella loro infanzia. Tanto è che molto spesso mi è capitato di vedere situazioni in cui la madre si mette a cercare delle giustificazioni perché sua figlia non ottenga alcune cose. Potrebbe essere, che ne so, la patente a 18 anni. La madre narcisista potrebbe dire che siccome ai suoi tempi non si faceva la patente a 18 anni, non è normale che sua figlia possa averla anche lei adesso. E vi dirò di più, ci possono essere circostanze in cui la cosa viene vista da un'altra prospettiva. Per esempio, prendiamo il caso di una famiglia narcisista povera. E una delle figlie va a rubare qualcosa. Potrebbe essere da mangiare o potrebbero essere rivestiti. Quando la madre narcisista vedrà questo, invece di condannare questo comportamento, che cos'è che farà? Si metterà a dire che è normale che anche lei alla sua età o un suo parente aveva rubato qualcosa. Quindi è normale. Allora, queste cose non è che vengono fatti per proteggere la figlia. Quindi, attenzione, qua c'è un lavoro in cui si cerca di instaurare nella figlia o nelle figlie dei comportamenti che le metteranno in condizione di falire e di sempre tornare dalla madre narcisista, perché di questo è che si tratta. Ricordiamo che le madri narcisiste non sopportano l'idea che i loro figli possono andare a farsi una vita lontani da loro. È una cosa inconcepibile. Non fanno i figli per questo. Le madri narcisiste fanno i figli per avere una platea che possa stare intorno fino al loro letto di morte. Per questo è che fanno i figli. Poi, per estensione, ci possono essere casi in cui fanno i figli per avere degli avatar, per poter vivere tramite loro le cose che non sono riuscite a conseguire nella propria vita, cercando di imporre ai figli di raggiungere quegli obiettivi secondo un ritmo che decidono loro. Se riprendiamo l'esempio della patente. Se la madre ha avuto la patente a 22 anni o a 30 anni, se sua figlia sarà in grado di avere quella patente a 18 anni, come abbiamo detto, la madre farà tutto perché la figlia ottenga la patente a 30 anni, come lei. Perché è un discorso proprio di avatar. Voi dovete fare la stessa vita che ho fatto anch'io. Non siete soltanto i miei figli. Siete una parte di me. Siete la mia estensione. Infatti, questa è una cosa che usano molto. Siete parte di me. Vi ho tenuto in grembo. Nessuno glielo togli, per carità. Nessuno togli questo a nessuna madre al mondo. Però, questo non significa che i propri figli sono l'estensione di un braccio o di un piede. Sono degli individui che hanno anche loro dei propri sogni, delle proprie visioni del mondo. Questo, purtroppo, non è accettabile dalla madre del narcisista. Pertanto, tutto quello che prova ad andare al di fuori dell'inquadramento di vita che hanno previsto, va attaccato, va distrutto. Ancora peggio, se le figlie iniziano ad avere dei successi, non è una cosa accettabile. Questo in particolare, se non c'è un modo per poter ricollegare il successo della figlia a qualcosa a cui hanno contribuito loro. Se non fosse per i finanziamenti che ti ho dato, non saresti mai stato in grado di ottenere quello. E perché ti ho cresciuta io che ho ottenuto quello. I tuoi talenti sono il frutto dei miei geni. È una cosa che tieni da me. Quindi mi devi sempre ringraziare da questo punto di vista. Cioè, vedete? Allora, voglio specificare una cosa, perché non vuole sembrare come qualcuno che ce l'ha con le madri in generale, no. Il punto è questo. Nessuno toglie a una madre il fatto che ha fatto dei sacrifici, dando loro il minimo indispensabile per poter sopravvivere. Nessuno nega questo. Il problema subentra quando queste cose vanno trattate come delle condizioni. Come se i figli prima di nascere avessero chiesto il permesso alla madre di poter essere i loro figli. Non funziona così. Quando uno diventa genitore è una scelta che fa, è una scelta che ha dei doveri. E questi doveri, se vengono compiuti come dovrebbero essere compiuti, lì si può parlare di diritto. Ho il diritto che tu mi rispetta. Ho il diritto che qua e là così. Perché vi dirò chiaramente, non sono una di quelle persone che pensa che il rispetto va dato a prescindere. Assolutamente. Per me il rispetto si merita. Per chiunque. Padre, madre, fratello, amico, chiunque. Il rispetto si merita. Anche perché, prendiamo un esempio. Immaginiamo un genitore che passa il suo tempo ad abusare del suo figlio o della sua figlia, fisicamente e anche sessualmente. Questa persona si deve meritare il rispetto? Cioè, vedete? Questo è un caso estremo, così mai per farvi capire. Il rispetto, per come la vedo io, si merita. E il problema della madre narcisista è che per lei tutto è dovuto. I figli la devono rispettare solo per il fatto che li ha messi al mondo. Però in molte instanze ci sono alcune cose che non vengono spiegate ai figli. La vera motivazione per la quale sono state messe al mondo, perché vi dirò, ci sono delle madri narcisiste che mettono i figli al mondo perché hanno voluto di conquistare qualcuno. E' un meccanismo tramite il quale cercano di legarsi a loro una persona, in questo caso il padre del figlio o della figlia. E quando non riescono a fare questo, se la prendono con la figlia. Si mettono a parlarle male, a farle credere che il motivo per il quale non sono riuscito ad ottenere tutto quello che volevano nella loro vita è perché le hanno messe al mondo. Ci vedete? Questi sono comportamenti che possono avere le madri narcisiste. E vi chiedo ancora, una persona così si dovrebbe meritare il rispetto a prescindere? Io non penso. Penso che il rispetto si deve meritare. Pertanto la madre narcisista, quando vede le sue figlie cominciare ad avere questi comportamenti indipendenti, non lo accetta. Perché il discorso è questo. Nella sua mente, le sue figlie hanno l'unico dovere di ottemperare a qualsiasi cosa dice la madre. Punto. Tutto quello che lei dice, tutto quello che lei decide, va visto come un messaggio biblico per le figlie. Non esiste che ci sia un'indipendenza o cose del genere. E se capitano delle fortune particolari alle figlie di questo tipo di madre, queste fortune vanno date alla madre. E guai se non viene fatto questa cosa, perché se non lo fanno, allora cominciano a partire campagne difamatorie. Campagne in cui vedrete la madre andare a dire in giro che sua figlia è una donna facile. Uso un eufemismo per non essere troppo volgare, però vi dirò, ci sono delle madri narcisiste che fanno questa roba qui, vanno in giro a raccontare che le loro figlie si comportano da donne da strada. Tutto questo perché si sentono ferite nel loro falso sé, in quell'immagine della madre padrona, no? Siccome si parla di padre padrone, c'è anche quella della madre padrona che non accetta che ci sia qualcuno che le tenga testa. In questo caso questo discorso vale per le figlie che tengono testa la madre narcisista. Mi focalizzo di più sul rapporto fra madre e figlia perché questa è la domanda che mi è stata fatta nei commenti. Però questo tipo di comportamento si può tranquillamente ritrovare anche fra la madre narcisista e i figli maschi, quindi non è una prerogativa che vale soltanto per le figlie, assolutamente. Pertanto, pur di mantenere il controllo nella vita delle proprie figlie, le madri narcisiste possono mettersi anche a sabotare qualsiasi iniziativa delle figlie, può sabotare le loro relazioni amorose, può sabotare i loro progetti. Una cosa che le vedrete molto fare è raccontare alcuni segreti imbarazzanti di fronte a delle persone che contano per le loro figlie. Immaginiamo che la figlia ha deciso di invitare un collega o una collega di lavoro che le ha promesso una promozione. Arrivano a casa, tutto quanto, la madre è narcisista. Ah, shish, buongiorno, sono la madre di... Salve, salve. Sarà super gentile, accomodante, con gli ospiti, tutto quello che si deve fare per creare un'atmosfera gioviale. Però, vedrete che poi nel corso della conversazione, durante la serata, comincerà a raccontare delle storie estremamente imbarazzanti sulla propria figlia. E non è che viene fatto casualmente, non è il discorso della madre che ha la nostalgia della figlia e qua, non c'entra assolutamente niente, perché questi racconti hanno un obiettivo specifico, distruggere l'immagine della propria figlia, di fronte ai colleghi. E ancora una volta, qua si parla dei vostri progetti. Se avrete detto a vostra madre che c'è una promozione che vi sta aspettando, che vi è stata promessa, da questi colleghi che inviterete a casa cena, potete essere sicuri che tutte le cose imbarazzanti che vi farà subire avranno come obiettivo di sabotare questa vostra opportunità. È di questo che si tratta. E se riusciranno a farlo, quando i vostri colleghi arriveranno e vi diranno che quella promozione di cui si è parlato in fin dei conti non ve la possono più dare, perché il suo successo... Vostra madre sarà contenta, sarà gioiosa fuori maniera, cercherà di nasconderlo, però lo vedrete, lo vedrete perché i narcisisti quando riescono a compiere qualcosa che va a rovinare la vita delle loro vittime, non possono mancare di mostrare la loro gioia. È un modo per dimostrare agli altri il potere che hanno, no? Che se loro decidono di impedirvi di ottenere qualcosa, riescono a farlo e nessuno li può fermare. Ovviamente non ve lo diranno così, vi diranno soltanto cose come... Ah, ma lo sapevo io, ti avevo detto che non era per te quel lavoro, te l'avevo detto ma non mi vuoi mai ascoltare, hai visto? Ed ecco quei risultati. Adesso sei qua tutta triste, vedi quando si dice che devi ascoltare tua madre e i consigli che ti dà. Questa sarà la reazione che vi mostreranno, ma dentro di loro potete essere certi che sono estremamente contenti perché c'è anche l'altra cosa. Quella promozione poteva anche essere vista come una minaccia per loro. La minaccia del fatto che adesso avrete una certa autonomia che vi permetterà di distaccarvi, di allontanarvi. E questo non deve succedere. Perché se vi distaccate vuol dire che andate a prendere un appartamento, eventualmente a 10 km di casa di vostra madre. E in più c'è il rischio che incontrerete qualcuno, qualcuno con il quale vi sposerete, con il quale avrete figli. Ma vi rendete conto? È una catastrofe una cosa del genere. Perché se voi avete qualcuno nella vostra vita, assieme dei figli, vuol dire che la vostra attenzione non è più focalizzata sulla madre. È focalizzata soltanto sulla vostra casa, i vostri figli e il vostro marito. Cioè ma capite? E il rifornimento narcisistico che dovete a vostra madre, perché si è presa cura di voi, non esiste questa cosa qui. Non esiste. Per questo è che le vostre opportunità vengono sabotate. Nel caso in cui riuscite comunque a superare queste difficoltà che vengono messe sulla vostra strada, allora la madre nazista sarà sempre a casa, cercando di sabotare il vostro matrimonio, il vostro rapporto con i vostri figli. Iniziando, come al solito, a raccontare storie imbarazzanti su di voi, eventualmente delle piccole ingiustizie che avete fatto a vostra madre e cose del genere, perché si tratta ancora di minare i vostri successi e la vostra capacità di avere una vita serena che sia migliore della loro. E qua siamo in un contrasto davvero assurdo, perché normalmente, almeno per come la vedo io, il compito dei genitori è di fare in modo che i propri figli possano avere una vita migliore di quella che hanno avuto loro. Questa sarebbe l'evoluzione come la intendiamo noi. Che cos'è l'evoluzione se ci pensiamo? È creare delle condizioni che ci permettono di vivere meglio di come vivevamo anni fa. È così che concepiamo l'evoluzione. Quando invece una persona fa in modo che le condizioni che le impedivano di vivere bene anni fa vanno riproposte ai propri figli per impedire anche a loro di vivere bene, questa non è evoluzione. Eh, ma la vita è difficile per tutti. Bisogna sudarsi le cose. Quelle persone che ottengono le cose facilmente sono dei viziati. Allora, per carità, anch'io sono un partigiano del fatto che le cose migliori sono quelle che richiedono un po' di sudore, no? Io non credo molto nelle cose facili, nelle cose che vengono concesse in un attimo. Però non è una visione che bisogna impore agli altri. Io vedo le cose in questa maniera perché c'ho una mia visione del mondo, ma qualcun altro potrebbe averne un'altra perché ne ha passate tante. E quindi quella fortuna ne ha bisogno. Ne ha bisogno per la sottostima. Ne ha bisogno per potersi dare una motivazione per andare avanti come si deve. Cioè, capite? Per quello che dico, quello che vale per noi, quello che piace a noi, non dovrebbe essere una cosa perentoria per gli altri. Per le madri narcisiste questo concetto non c'è. Quello che è perentorio per loro deve esserlo anche per gli altri. E la scusa che usano per non essere contraddette è il fatto che sono delle madri. Quindi il fatto di essere una madre significa che hanno più esperienza, sono più anziane e conoscono meglio la vita delle persone che sono più giovani di loro. Normalmente dovrebbe essere così, però in molti casi non è così. Perché sappiamo che i narcisisti hanno il problema che la loro psiche è ferma a una certa età. Quindi mi spiego meglio. Fisicamente possono essere maturi ed avere una certa età, però mentalmente sono fermi. Sono fermi all'età in cui hanno subito un trauma. Quel trauma che li ha fatti diventare narcisisti patologici. Nel caso in cui si tratta di un trauma che è stato causato dall'educazione. Perché boh, c'è un'altra tematica alla quale sto arrivando e sulla quale farò un video a tempo debito. E quando cominciamo a entrare nel reame dei geni, dove ci sono dei comportamenti che vengono passati tramite i geni alle generazioni future, che le può predisporre a sviluppare il disturbo della personalità di tipo narcisistico. Questa è un'altra storia. Per questo che ci sono persone che dicono che no, uno nasce narcisista perché così e basta. In realtà ci sono tante condizioni che possono creare un narcisista o una narcisista. Nei miei video prendo gli esempi che nascono per via dell'educazione. Questo è perché è quello che ho visto nella mia esperienza. Perché tengo a specificare non sono uno studioso, non sono uno psicologo, non sono un medico, non sono niente di tutto questo. Sono un semplice sopravvissuto che racconta la sua esperienza assieme agli elementi che mi hanno permesso di poter sopravvivere a queste persone. Pertanto non dico di avere la conoscenza completa su come possono nascere i narcisisti. Assolutamente. Da questo punto di vista rimando ai professionisti. Quindi nei miei video faccio notare alcuni elementi che ci sono. Per chi li ho vissuti e per chi li ho letto anche nei libri. Ma se volete maggiori informazioni a riguardo, lì bisogna andare dai professionisti. Quindi ecco perché la madre narcisista può non amare le sue figlie. Può avere questo odio nei loro confronti, partendo dal presupposto che considerano i propri figli come un'estensione di loro stessi. Quella vita che stanno avendo è la vita che avrei dovuto avere io. Non è giusto che loro ce l'abbiano meglio di me. Perché io devo aver sofferto così tanto? Perché loro poi se la godono così? Non è giusto. Non è affatto giusto questo. Se io ho sofferto così tanto, devono soffrire anche loro. Questo è il modo in cui la madre narcisista concepisce la vita per i suoi figli. E praticamente ho detto papale papale un discorso di gelosia. Se io non ho avuto questa cosa che voi state per avere adesso, allora non l'avrete neanche voi. Perché a me nessuno ha mai fatto queste cose. E non capisco perché dovrebbe capitarvi a voi una cosa del genere. Ecco perché le vedrete anche andare a sabotare i matrimoni delle proprie figlie. Perché se la madre narcisista è stata ammolata dal marito, perché non la sopportava più, perché ne aveva abbastanza di tutti questi problemi che spuntavano fuori ogni settimana, ogni mese, quando vedrà che le sue figlie stanno sviluppando un matrimonio che sta funzionando meglio di quello che ha avuto lei, questa la farà incavolare. Perché rientriamo nello stesso discorso. Perché a voi sì e a me no? Questo è uno dei motivi per il quale la madre narcisista può odiare le sue figlie. Questo è tutto. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Fatemi sapere nei commenti come vi è sembrata questa puntata. Non mi rimane altro da dirvi che... ci vediamo alla prossima.